Individuato e denunciato tramite l'impianto di videosorveglianza l'autore dell'atto vandalico e i pannelli del sottopasso del Lido, nell'intera città più di 80 le telecamere attive e gestite dalla polizia locale di Fano. Perde un occhio e le mani a seguito dell'esplosione di una bomba a fai da te, arrestato alcuni mesi dopo il 37enne romeno che fabbricava e costitiva in casa, materiale esplodente. Pericoli per i ciclisti e i pedoni che imboccano la discesa che da Viale Cesare Battisti si intersega con Via Gentile da Fabriano, residenti preoccupati per l'alta velocità delle automobili. Nuovo ripetitore telefonico in Via Forlanini a Pesaro scatta la protesta pacifica dei residenti. Mi ha fatto veramente male perché non c'è stata nessuna comunicazione, nessuna riunione con i cittadini per dire, per avvisarci. Podio per Andrea Grossi, studente di cartoceto, vincitore del bronzo alle Olimpiadi Internazionali di Chimica. Portei, spettacoli, conferenze e mostre a Montemaggiore di Colli al Metauro, torna era ieri due giornate all'insegna della memoria con la sua rievocazione storica della Seconda Guerra Mondiale. Gli effetti del maltempo sulla Festa del Mare 2023, annullati gli eventi di oggi, venerdì 4 agosto, confermati quelli del 5 e del 6 con concerti, step gastronomici, momenti religiosi e spettacolo pirotecnico. Una buona serata e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Come già annunciato nei giorni scorsi, è stato identificato e denunciato il giovanissimo che nella notte del 27 luglio scorso ha danneggiato i pannelli del sottopasso di Viale Cairoli a Lido di Fano. Questa mattina il sindaco alla presenza dell'ufficiale Renzicchi e del vicecomandante Di Benedetto, della Polizia Locale e dell'assessore Cucchiarini hanno fatto anche un primo bilancio sulle attività svolte dall'inizio dell'anno ad oggi. Sentiamo i particolari nel servizio curato da Filippo Pucci. Non è passato di certo inosservato alla comunità fanese il brutto gesto di alcuni giorni fa sull'atto vandalico avvenuto nella notte del 28 luglio intorno all'1.20 nel sottopasso del Lido di Fano dove un ventenne ha distrutto a calci, come potete vedere da queste immagini, i murales realizzati dagli studenti dell'Istituto Nolfi Appolloni di Fano, ragazzo poi identificato e denunciato attraverso un lavoro minuzioso e di ricostruzione da parte della Polizia Locale. Opere installate nel giugno del 2021 grazie alla laboriosità degli alunni che hanno reso questo tratto più colorato e vivace. Proprio oggi il sindaco Seri ha voluto rimarcare questo comportamento inaccettabile e l'aiuto prezioso delle telecamere installate su tutto il territorio cittadino, tra cui anche nel sottopassaggio. Chi si immacchia di questi episodi è un idiota, lasciatemi dire il termine perché fare questi gesti gratuiti senza alcuna ragione sono proprio comportamenti stupidi che non fanno onore a questi ragazzi che li commettono. Questo sta a dimostrare, e questo deve essere un messaggio chiaro, che chi si immacchia di questi reati, perché di reati parliamo, non passa impunito. Per cui saremo severi, perché non esiste alcuna giustificazione che possa reggere comportamenti di questo tipo. Allora un messaggio chiaro che vorrei dire. La città sotto questo aspetto ha un sistema importante, un ringraziamento alla Polizia Municipale che ha fatto un lavoro importante, Capilare, che monitora costantemente tutto questo sistema. Ovviamente lasciatemi dire, però anche questo è importante, che non può esserci solo un lavoro di oppressione, di controllo importante, che deve esserci, ma deve essere accompagnato, specialmente se parliamo di comportamenti di adolescenti e di giovani, anche delle politiche sociali, di accompagnamento ed educativo e di responsabilizzazione sulla quale ci stiamo impegnando e stiamo ragionando. La conferenza di questa mattina è stata l'occasione anche per ribadire l'importanza degli impianti di videosorveglianza. Ben 80 ai dispositivi attivi sull'intera città che hanno agevolato alcune ricostruzioni e operazioni importanti degli agenti di Polizia Locale di Fano e delle altre forze dell'ordine. Notevoli i numeri dall'inizio dell'anno 2023 ad oggi. Le telecamere sono state determinanti anche nell'individuazione e nella restituzione di oggetti. L'ultimo, uno degli ultimissimi casi è stato il furto di un Rolex che è stato restituito al proprietario. Voglio ricordare che a fianco delle telecamere ci sono importanti controlli su tutti i quartieri da parte del nostro corpo di Polizia Locale. Sono centinaia i controlli dall'inizio dell'anno. Vado velocemente a dirne alcuni. 181, quelli del Pincio e zona Porta della Mandria. 184 nel centro, zona verso Pesaro, lato nord. 102, zona centro storico, norfi sud per intenderci. Oltre 200, quelli del mare. 200, quelli verso Fano sud. C'è un'attività importante nella zona del Poderino di controllo di alcuni parchi. E tutta questa attività di presenza della Polizia Locale ha portato ad identificare dall'inizio dell'anno quasi 3.000 persone. A queste cifre poi si aggiungono i 20 controlli a edifici e case abbandonate, al contrasto di stupefacenti con 6 persone identificate e anche 3.100 verifiche su veicoli, di cui 193 senza assicurazione e 132 sequestrati. Passiamo alla cronaca. Nei giorni scorsi i carabinieri del Comando Provinciale di Pesaro Urbino hanno dato esecuzione a un'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di un romeno di 37 anni pregiudicato perché responsabile del reato di fabbricazione e detenzione di materiale esplodente. I fatti risalgono allo scorso 10 giugno quando l'uomo, mentre fabbricava un ordigno artigianale, era stato travolto da una fortissima esplosione che gli aveva causato la perdita di un occhio e di entrambe le mani e caccia invece all'accomplice che al momento dell'esplosione si trovava nell'abitazione e aveva abbandonato in fin di vita il 37enne romeno. Parliamo del maltempo nelle Marche. I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio per diversi interventi causati dalla perturbazione che sta attraversando la nostra regione. Una ventina di interventi svolti, la metà dei quali nella sola provincia di Ancona, soprattutto per alberi caduti sulla sede stradale e allagamenti all'interno delle abitazioni. La protezione civile delle Marche ha emesso una nuova allerta a meteo gialla valida per tutta la giornata di domani, sabato 5 agosto. E ora andiamo a Pesaro, dove questa mattina si è svolta una protesta pacifica in seguito all'installazione del nuovo ripetitore telefonico in Via Forlanini. Residenti preoccupati per l'inquinamento acustico e soprattutto per gli effetti delle onde elettromagnetiche. Sentiamo. Si è svolta oggi una protesta pacifica contro l'installazione del nuovo ripetitore telefonico in una zona residenziale a pochi passi dall'asilo di Via Ferraris a Pesaro. L'antenna è stata attivata all'1 agosto, nonostante la raccolta firme, le ripetute proteste e gli appelli all'amministrazione comunale. Era quello che non avremmo mai appunto voluto, però anche questo appunto fa parte di quelli che sono i nostri desideri, che continueremo a portare avanti, non soltanto per l'interesse nostro, del comitato di Cesare Beccaria, ma per tutti i cittadini appunto di Pesaro, contro questa installazione selvaggia, sulla base di una normativa nazionale appunto scelerata, che consente alle società appunto di telefonia di installare qualsiasi appunto sito, in questo caso è un sito privato della società appunto Telecom, delle impianti telefonici. Speravamo, insomma, viste le rassicurazioni iniziali, che questa appunto antenna non venisse mai messa in funzione. Si parla soltanto di campo elettromagnetico, parere appunto dell'arcom, ma che presenta numerose inesattezze, sia in riferimento alle misurazioni rispetto agli edifici sensibili, quali appunto l'asilo. L'altra cosa spiacevole è che effettivamente l'installazione, non sappiamo se c'è, verrà posto appunto rimedio o no, o c'è stato effettivamente un errore di installazione, su questo ci potrà rispondere soltanto effettivamente la società che ha provveduto ad effettuare l'installazione, e questo rumore appunto acustico, che è diventato veramente un problema molto serio, e di cui non si fa riferimento, vi assicuro, né nel progetto, né tantomeno l'ARPAM l'ha preso in considerazione, perché l'ARPAM è tenuta a dare una valutazione sul campo elettromagnetico. I residenti, preoccupati per il rischio provocato dalle onde elettromagnetiche e l'inquinamento acustico, si sono riuniti per ribadire il proprio no alla nuova antenna di via Forlanini. Provarsi questa antenna, questo totem, da un giorno all'altro, che gli ultimi giorni hanno montato il Ponte Radio vero e proprio, mi ha fatto veramente male, perché non c'è stata nessuna comunicazione, nessuna riunione con i cittadini per dire, per avvisarci di quanto poteva essere, di quello che poteva essere fatto, bastava magari essere un pochino più trasparenti, e quindi ci siamo trovati proprio completamente disarmati con le istituzioni, in questo caso il Comune, perché bisogna essere chiari, quindi dal sindaco a scendere, che non ha mai assolutamente risposto alle nostre interpellanze. Presente alla protesta pacifica, anche il consigliere regionale, Nicola Bagliocchi. Abbiamo già trattato il tema anche in consiglio comunale con il consigliere Daniele Malandrino, e riteniamo che questo quartiere non merita questo trattamento, e quindi siamo venuti ad appoggiare questa protesta assolutamente pacifica, che ha solo lo scopo di farsi sentire, di evitare l'allaccio di questa antenna, almeno in attesa del nuovo piano antenna che il Comune ha annunciato. Quindi mi sembra molto opportuno che in attesa di questo nuovo studio, che dovrà andare a ricercare la zona più giusta per la collocazione di queste antenne, si possa almeno stoppare, fermare questa situazione, perché questi residenti hanno tutto il diritto di vedere tutelate sia la loro salute che il valore immobiliare delle loro case. Segnalato da due residenti il pericolo per i pedoni sulla discesa che da Viale Cesare Battisti incrocia a Via Gentile da Fabriano. Le richieste sono quelle di installare dei dossi per rallentare la velocità delle auto e di mettere un semaforo al posto dello stop poco visibile. Sentiamo le interviste realizzate da Stefania Bonomi. Ci troviamo in Via Gentile da Fabriano, all'altezza del numero civico 60, dove alcuni residenti hanno segnalato una grossa problematica di eccesso di velocità delle auto che da Via Cesare Battisti, andando verso il mare, possono poi svoltare a sinistra ed arrivare da questa via. Questa è la via incriminata, ossia le auto arrivano velocissimamente da questa via costeggiando quasi, rasentando il muretto con la pericolosità di passanti, passeggini e anche biciclette che potrebbero anche venire investiti. Adesso andiamo a sentire direttamente le persone che ci hanno segnalato questa problematica. Questa strada è molto trafficata, auto, moto, camioncini, di tutto di più e vengono giù molto forti. Quindi noi che dobbiamo uscire da questo cancelletto che ha un passo della strada, abbiamo molta paura di uscire. Succedono incidenti qui nello stop, vengono giù e ti rispondono male, ti fanno dei segnacci, magari tu fai un gesto come dire andate più piano, a me l'altro giorno mi hanno mandato a quel paese. Oltre che è pericoloso, sono anche maleducati, spesso hanno il telefono in mano, basta una distrazione che noi per uscire da casa insomma dobbiamo fare il segno della croce. Questa è una strada che è pericolosa per noi, per i ragazzini che vanno a scuola con le biciclette, per tutti, per i grandi, i piccoli. Quello che chiediamo noi, a gran voce, è di metterci delle dune, quantomeno una nel mezzo, una davanti al nostro cancellino, che faccia rallentare queste auto. Altro problema è l'incrocio, dove c'è lo stop, ovviamente, che non è che implica che le macchine si fermino, e che aggiunge pericolosità alla velocità delle auto che scendono dalla strada che ha nominato Rita. Quindi oltre a questi dossi per evitare la velocità, sarebbe magari opportuno mettere un semaforo. L'obiettivo deve essere quello, ovviamente, di rallentare la velocità di chi scende e comunque evitare che ci siano degli scontri dovuti al fatto che non sempre lo stop viene rispettato. Importanti interventi al porto di Fano. Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della diga foranea. Sette tonnellate di massi andranno a delimitare l'intero perimetro del porto turistico. Altro intervento, la rimozione dei fanghi presenti nell'aria da più di dieci anni. Sentiamo. Assessore Fanesi, ci sono dei lavori tanto attesi al porto di Fano. Di che cosa si tratta? Il comune di Fano ha affidato i lavori per circa 500 mila euro per la sistemazione, la messa in sicurezza della diga foranea del porto di Fano e l'ha fatto perché vengano ripristinati e aggiunti gli scogli appunto nel profilo della diga foranea nella zona che dà verso Bagnicarlo e nella zona diciamo che dà verso il mare aperto in prossimità dell'imbocco del porto e lavori urgenti che abbiamo dovuto fare per mettere in sicurezza appunto tutta la parte del porto e abbiamo lavori che si sono svolti durante questi giorni e per questo abbiamo dovuto chiudere anche parzialmente la passeggiata dell'Isipo per non creare problemi alle persone che passavano. I lavori sono stati sospesi riprenderanno a settembre e quindi arriveranno alla conclusione dopo questo periodo estivo e sicuramente lavori tanto attesi per appunto le attività portuali e di messa in sicurezza comunque di un'infrastruttura fondamentale per il comune di Fano e sicuramente questa è una buona notizia perché sono già iniziati e noi contiamo di finirli prima dell'autunno. e in più ci sono delle importanti novità per quanto riguarda i fanghi stoccati al porto. Finalmente sottolineo finalmente dopo follecitazioni fatte dal comune è arrivato da parte dell'autorità di porto di Ancona il progetto per la rimozione dei fanghi che sono stati depositati qualche anno fa più di dieci nell'interno dell'area del porto e a Torrette finalmente sembra che qualcosa si muova dopo tanti problemi dovuti a progetti non pronti ricorsi al Tare eccetera quindi adesso siamo in una fase comunque sia positiva perché questo progetto dovrà essere messo a gara e dunque ancora un po' di pazienza ci vuole ma almeno si muove qualcosa in questo fronte questi fanghi insieme a quelli di Torrette che ovviamente sono molto di più dovranno essere portati presso la vasca di colmata che si deve riempire al porto di Ancona c'è già un impegno economico sono stati stanziati i fondi tanto tempo fa c'è già un impegno a prenderli e quindi sicuramente anche questa è una buona notizia anche se non definitiva ma sicuramente qualcosa si muove finalmente dopo che il comune di Fano si è lamentato in vari modi i consiglieri comunali della Lega hanno presentato un'interpellanza al comune di Fano in merito al ripristino dello scolo idraulico sotto la ferrovia all'altezza del centro Scarpa sono più di due mesi si legge in una nota che i cittadini di Metauriglia chiedono in vano l'intervento dell'amministrazione comunale ma ad oggi non hanno ricevuto risposta lo scolo è completamente occluso e in diverse situazioni fanno sapere i consiglieri comunali della Lega l'acqua ha invaso completamente i campi raggiungendo l'abitato a ridosso della strada nazionale Adriatica Sud causando apprensione e ingenti danni materiali l'amministrazione interpellata formalmente dal capogruppo della Lega Ilari si rimpalla la responsabilità con RFI titolare della ferrovia e responsabile del passaggio sotto la linea ferroviaria arenando i semplicissimi lavori di rimozione dei detriti nel classico impasse sulle competenze ci spostiamo a Monte Maggiore di Coglia al Metauro dove questo fine settimana si svolgerà la manifestazione intitolata Era Ieri con rievocazioni mostre e spettacoli si potrà vivere l'atmosfera dell'agosto 1944 quando piccoli e grandi eventi videro protagonisti i comandanti alleati dell'ottava armata britannica e il loro capo supremo Winston Churchill Sabato e domenica a Monte Maggiore al Metauro torna la revocazione storica Era Ieri da chi ha organizzato l'evento e qual è l'obiettivo dell'iniziativa? L'evento è organizzato dal comune del comune di Colli al Metauro con la collaborazione della Proloco che si avvale comunque della direzione artistica della dottoressa Francesca Tonucci con la partecipazione dell'associazione Greenliners che è un'associazione di rievocazione del nostro territorio e la collaborazione della direttrice scientifica del museo del comune di Colli al Metauro dedicato a Winston Churchill che è uno dei protagonisti della rievocazione storica che si terrà sabato e domenica a Montemaggiore di Colli al Metauro Nello specifico che cosa verrà rievoca La rievocazione storica che va in scena a Montemaggiore al Metauro dal 2016 propone una rievocazione di tutti quelli che sono gli stili di vita della seconda guerra mondiale quindi gli aspetti della vita sociale ma soprattutto un evento che ha portato Montemaggiore al Metauro nei libri della storia nonché fino al museo della guerra di Londra dove c'è una foto dedicata che ritrae il primo ministro inglese Winston Churchill che nell'agosto del 1944 in visita a Montemaggiore al Metauro si è affacciato da quelle che sono le mura attuali per osservare l'avanzata dell'ottava armata quindi i rievocatori cercheranno di mettere in scena questo passaggio che ha portato Montemaggiore nella storia Francesca quale sarà il tema di questa edizione? Il tema di questa edizione sarà il fumetto infatti il sottotitolo dell'evento di quest'anno e segni disegnati quindi partiremo proprio in un'analisi storica del fumetto attraverso la conferenza del dottor Luca Raffaelli che farà la storia del fumetto in 90 minuti seguirà un altro evento che si chiama Finding Churchill e sarà uno spettacolo di fumetto narrazione e musica e questo sarà sabato sera è importantissimo che in entrambe le giornate le persone possano venire indossando abiti anni 40 perché sia grazie all'intervento dei green liners che portano la parte storica tutte le altre persone naturalmente vestendo il più possibile abiti anni 40 naturalmente creano un contesto che favorisce anche l'ascolto e incuriosisce l'osservazione Il programma di domenica invece? Il programma di domenica provvede invece tutta la rievocazione storica che riguarda appunto la salita sulle nostre mura di Winston Churchill accompagnati dai generali Anderson Alexander e Liz e seguirà poi la possibilità di assistere sia a un intervento musicale dei Blues Tree e a uno spettacolo di Sand Art accompagnato da letture poetiche parte storica ma anche gastronomica sicuramente chi starà con noi avrà la possibilità di cenare negli stand curati dalla Proloco che offrirà naturalmente prodotti sia a chilometro zero che possano narrare parte di questa storia anche della tanto inflazionata tagliatella di Churchill che altro non è che una tagliatella a ragù tipica del nostro territorio della nostra tradizione gastronomica dopo 30 anni è di nuovo un marchigiano a vincere il bronzo alle Olimpiadi della Chimica di Zurigo tre prove di estrema difficoltà disputate tra 348 partecipanti provenienti da 87 nazionalità diverse ha solo 19 anni ed ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi Internazionali di Chimica di Zurigo il piccolo genio è Andrea Grossi studente di cartoceto neodiplomato a pieni voti a Litis Mattei di Urbino la competizione che si è tenuta nella prestigiosa sede del Politecnico federale di Zurigo ha regalato ad Andrea l'emozione del podio dopo tre prove di estrema difficoltà disputate tra 348 partecipanti provenienti da 87 nazionalità diverse un percorso quello di Andrea Grossi iniziato lo scorso anno con un quarto posto alle nazionali contro alunni più grandi di lui grazie anche agli insegnamenti dei professori Paolo Rossolini e Giacomo Lodovici che lo hanno supportato nello studio della chimica negli ultimi tre anni come nasce in uno studente la passione per la chimica nel mio caso è nata fin da piccolo guardando programmi scientifici in tv e la passione per le scienze è proseguita si è espansa e sfocalizzata nella chimica alle superiori spiegaci in cosa consiste le tre prove su cui si è basata la gara di Zurigo che ti ha portato alla vittoria del bronzo analisi qualitativa si tratta di riconoscere cosa ho in una provetta ad esempio potrebbe essere un sale di calcio ferro magnesio sodio devo riconoscere cos'è quantitativa devo riconoscere quanto di quel sale è presente di massa o di volume e sintesi organica si tratta di far reagire due reagenti ottenere un prodotto e poi purificarlo e filtrarlo chi ti è stato vicino in questo percorso che oggi ti ha portato alla vittoria beh certamente la scuola e tutti i professori specialmente quelli di chimica che mi hanno aiutato molto in questo percorso delle gare e un ringraziamento va anche a ex olimpionici che hanno partecipato in passato che mi hanno dato una mano in questa gara in svizzera arrivare alle olimpiadi la fase internazionale è un qualcosa che era successo circa 30 anni fa nel nostro istituto per arrivare a Zurigo Andrea ha dovuto diciamo superare diversi step per cui i giochi della chimica sono cominciati con una fase nazionale di istituto online in cui a partire da 25-30 mila studenti circa si è passati a 3 mila suddivisi nelle varie regioni i 250 circa studenti che si sono classificati nella regione Mar che poi hanno dovuto effettuare un'ulteriore prova presso l'università di Camerino e da questa prova regionale sono usciti i campioni regionali delle varie classi di concorso poi hanno dovuto ulteriormente sottoporsi ad una prova nazionale che è stata effettuata a Roma da cui poi il nostro Andrea ha effettuato una prova magnifica che gli ha consentito di essere convocato per le Olimpiadi internazionali di Zurigo che consiglio vorresti dare a un tuo coetaneo che vorrebbe intraprendere questo stesso tuo percorso di non pensare che sia molto difficile o che sia impossibile è relativamente facile se ci si impegna è fattibile parliamo della festa del mare a Fano a causa del maltempo sono stati annullati tutti gli appuntamenti di oggi venerdì 4 agosto dunque si partirà domani sabato 5 con l'apertura degli stand gastronomici alle 18 e dalle 21.30 concerti in zona Porto e Lido domenica a partire dalle 9.30 le celebrazioni con la Santa Messa ufficiata da Monsignor Andreozzi prima l'alza bandiera e la deposizione della Corona dall'Oro al monumento la tempesta e alla lapide dei caduti del mare in seguito l'uscita con le imbarcazioni il programma prosegue nel pomeriggio con la nuotata lunga alle 17 alla spiaggia di Gimarra a chiudere la serata stand gastronomici in zona Porto e momenti musicali grande finale con lo spettacolo pirotecnico alle 23.30 a proposito della festa del mare 2023 domenica 6 agosto alla Darsena Borghese di Fano si svolgerà lo spettacolo teatrale dal titolo Maria Risorta il protagonismo delle donne nella marineria fanese Maria Risorta è diciamo un elemento di sollecitazione e anche comunque un testo di riferimento caro a questa città anche se poi la commedia teatrale che ha come protagonismo appunto le donne le storie delle donne della marineria fanese spazia diciamo su un testo completamente nuovo costruito in questa prima stesura dalla diciamo dalla costruzione con i ragazzi dell'icee in Orfi Apolloni e Torelli sotto la regia appunto della regista Rena Tonelli con delle interviste prese proprio sul territorio da alcune testimonianze orali dalla lettura di alcuni testi di riferimento non solo la Maria Risorta alcune ricerche anche in merito alla marineria fanese proprio per andare a ridefinire un testo nuovo che possa entrare all'interno del mondo della marineria in luoghi come il Manfrini e qui ci sono delle tracce che ne definiscono l'importanza e anche la storia Maria Risorta è un testo devo dire veramente evocativo ecco c'è questo sentimento di malinconia e di profondità anche questa sorta di scavare vedere in se stessi vedere quali sono i valori veri quello che realmente conta che sicuramente dà il contatto quello che porta a stare lontani dalla terra con al di sopra il cielo e al di sotto il mare noi ci siamo concentrati principalmente sulla storia di questi personaggi all'interno di un contesto diverso che è il contesto del porto fanese quindi c'è da una parte all'interno del testo la Maria Risorta con tutto quello che porta di evocativo e c'è dall'altra parte la cultura più popolare del porto è stato sicuramente un motivo di arricchimento per loro ma molto anche per me devo dire subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato a Aspettando in Gir per Fan evento gastronomico che si svolgerà il prossimo 10 agosto nel centro storico di Fano vi ricordo che potete inoltrare le vostre segnalazioni al numero 338 4968 250 oppure tramite il gruppo ufficiale Facebook reporter di strada Bifano TV è tutto per questa edizione grazie per averci seguito e buona serata a